Ciao a tutti, mi chiamo Gabri Costa, cari ragazzi, visto che siamo in questo terzo episodio di Sly 1, visto che siamo ad Haiti, ora dobbiamo aprire questa cassaforte e scoprire il nuovo codice e scoprire la nuova pagina del TVO Seraconus. Dobbiamo premere il tasto cerchio per inserire il codice. Facciamolo. Se ho fatto bene tutti i conti e io i conti li faccio sempre benissimo, allora la combinazione giusta deve essere 5, 5, 8, 8. Avete sentito, dobbiamo fare 5, 8, 8. Ecco, ora c'è una nuova pagina del TVO Seraconus, a cosa serve questa? Sentiamo. Ma è incredibile, sei riuscito a trovare la tecnica del cappello esclusivo di Robert Cooper. Usa il tasto triangolo per lanciare il tuo cappello. Quindi ancora il tasto triangolo per farlo esplodere. Ricordati di mantenere la distanza di sicurezza. Avete sentito ragazzi? Ora possiamo lanciare il cappello di Sly Cooper. Vi faccio vedere una prova. Dovete premere il tasto triangolo per lanciare il cappello di Sly. Poi allontanatevi e premete di nuovo triangolo per farlo esplodere. Ora è tutto nostro. Arrivederci. Grazie. Grazie.